coronavirus la sfida del sindaco di vicenza a tenere in vita le attività produttive ripartire dall'arte trasporto pubblico svt si adegua al dpcm riduce la capienza delle corriere si prepara a ripartire case di riposo calano i nuovi accessi cresce del 50 per cento la richiesta di assistenza domiciliare integrata il sindaco risponde alla segnalazione di rete veneta traffico smog a ponte san paolo presto via i bus tg vicenza buona serata e ancora buona domenica la guerra al covid vede i sindaci in prima linea a vicenza francesco rucco sta cercando l'equilibrio tra diritto alla salute e diritto al lavoro e guarda al futuro quando finirà l'epidemia sa già da dove ripartire covid nome in codice di un virus che sta attaccando il sistema la sanità l'economia sono sotto pressione la politica è chiamata a dare risposte epocali dal governo centrale alle regioni tutte le istituzioni sono impegnate a trovare l'antidoto all'epidemia del secolo ma sono soprattutto i sindaci a combattere questa guerra in prima linea a vicenza francesco rucco anche nell'ultima settimana ha cercato di contemperare la sicurezza sanitaria che richiederebbe distanze immobilismo e clausure con le esigenze esattamente opposte delle attività produttive che per sopravvivere hanno bisogno di ossigeno di movimento di aperture abbiamo cercato di sostenere le nostre attività produttive con una serie di iniziative perché portassero poi la gente ad acquistare nei negozi di vicinato in particolare e ci siamo riusciti abbiamo applicato una serie di attività una serie di misure a sostegno dei plateatici per bar e ristoranti in realtà il governo ha fatto delle scelte diverse ha preferito colpire alcuni settori lasciandone aperte diciamo in contraddizione degli altri un esempio è il mondo della cultura il mondo dello spettacolo che è quello che sta subendo le più gravi perdite in questo momento oltre naturalmente a tutta la parte della ristorazione e dei bar ristoranti pizzerie eccetera che di sera sono chiusi quindi è giusto tutelare la salute pubblica ma dall'altra vanno contemplate anche il diritto al lavoro e il diritto anche a percepire un reddito e proprio per tenere in vita le attività produttive senza contraddire i principi sacrosanti della sicurezza sanitaria il sindaco di vicenza proprio questa settimana ha studiato un'ordinanza che risponde a uno dei fronti aperti e più discussi quello dei mercati ci siamo posti una domanda rispetto ai mercati se fosse giusto o no proseguirli riteniamo che in questa fase con tutte le dovute diciamo regole da rispettare come il distanziamento sociale la mascherina e l'igienizzante riteniamo che si possano contingentare diciamo così gli accessi ai mercati garantendo il diritto al lavoro agli ambulanti in grave difficoltà economica ma dall'altra anche tutelare il diritto alla salute e quindi crediamo che il provvedimento adottato sia un ottimo provvedimento tra l'altro concertato con l'associazione di categoria quando si spegnerà l'epidemia il rischio per le città è quello di ritrovarsi con le serrande abbassate dal covid che non riapriranno mai più luoghi oscuri zone d'ombra deserti metropolitani per evitare questa prospettiva spaventosa serve il coraggio di una strategia che salvaguardi le attività produttive oggi finché non sono ancora state uccise dai dpcm e dal coronavirus da questo punto di vista francesco rucco ha già deciso da dove ripartirà vicenza dalla cultura dall'arte vicenza riparterà dall'arte della cultura come indotto per la nostra economia locale dobbiamo attuare delle politiche di sostegno a tutte le attività produttive in difficoltà nei limiti della competenza di un'amministrazione comunale con un governo che deve dare provvedimenti concreti non solo contributi a pioggia e che deve vedere la ripartenza noi lo faremo naturalmente rilanciando la cultura il turismo che siano un indotto importante per dar vita e spazio a turisti ad esempio che dovranno tornare anche nelle nostre bellissime città parliamo di trasporto pubblico locale tra l'alternanza dei dpcm i tagli della capienza l'azienda vicentina svt annuncia di aver fatto contratti con i privati che consentiranno di lavorare in tutte le situazioni siamo stati un po' all'inseguimento dell'accavellamento dei dpcm arrivavamo pronti per un dpcm e subito dopo ne arrivava un altro e dovevamo cambiare cambiare l'assetto trasporto pubblico a fisarmonica il covid porta anche a questo dal 100 per cento si è passati con l'inizio della scuola con pullman autobus con capienza all'80 per cento il turbolento inizio dell'anno scolastico ha però portato ad uscite anticipate gli orari dei pullman sono saltati attese prolungate studenti ammassati dentro e fuori dei pullman ha fatto arrabbiare i genitori ed intanto il virus piano piano dilagava svt aziende di trasporto pubblico vicentina si è attrezzata ed ha fatto accordi con i privati dei pullman turistici prima ancora che un decreto del governo lo prevedesse il tempo che il piano andasse a norma che la seconda ondata del covid è esplosa e un nuovo dpcm ha tagliato ancora la capienza dei mezzi pubblici abbassandolo al 50 per cento soldi e contratti spesi svt vista l'incertezza della situazione si è tutelata nei contratti che abbiamo stipulato con i terzisti che fanno servizio per noi abbiamo messo una clausola che qualora il servizio venisse meno per l'adozione di provvedimenti che possono interessare il servizio stesso si può tranquillamente risolvere il rapporto senza danno per le parti insomma tutto in stand by perché svt è pronta qualora cambiasse la situazione a riprendere tutto come prima come ci ritiriamo dal servizio probabilmente ritorneremo al servizio con qualche giorno ovviamente di di lasco però insomma torneremo a restire un servizio di livello in funzione del decreto che verrà emesso uno degli effetti del covid è la diminuzione degli accessi alle case di riposo in cambio aumentano invece le domande di assistenza domiciliare a cui il comune di vicenza è chiamato a dare una risposta noi stiamo registrando come con un vicenza un'importante richiesta di aumento forse anche quasi il 50 per cento in più di assistenza domiciliare integrata a vicenza cresce del 50 per cento la richiesta di assistenza domiciliare integrata operatori specializzati che aiutano gli anziani nelle loro abitazioni questo perché nell'epoca del covid è calato bruscamente il numero di nuovi ospiti nelle case di riposo stiamo registrando un po' in tutte le strutture sociosanitarie anche che diventano positivi gli operatori gli operatori gli os gli educatori gli infermieri e quindi sta avvenendo un po' meno quello che può essere la sicurezza proprio questo è anche un problema contemporaneamente sono calate le domande di accesso di anziani nelle case di riposo mentre sono aumentate le richieste di aiuto da parte delle famiglie che cercano di tenere i nonni in casa molte famiglie rinunciano all'accesso in casa di riposo proprio perché hanno paura poi di non vedere proprio più il suo caro e proprio perché anche per il modo in cui vengono gestite oggi le attività all'interno delle case di riposo in modo obbligatorio perché devono essere molto rigidi per fare in modo che non ci sia la diffusione del virus all'interno dell'RSA e alcuni servizi magari possono venire anche meno e per questo alcune famiglie se ce la fanno rinunciano e per noi quindi dobbiamo aiutare queste famiglie a gestire l'anziano in casa per questo il comune sta aumentando le ore degli operatori sociali con l'assistenza domiciliare integrata e con la consegna del pasto a domicilio e questa è un'emergenza nuova che sta proprio a causa del covid che sta venendo fuori e che noi come comune abbiamo il dovere di dare una risposta i vigili del fuoco sono intervenuti oggi verso le 14.45 a marano vicentino in via cabosco all'interno di un piccolo laboratorio di un'abitazione dove un signore disabile motorio è rimasto vittima di un infortunio mortale mentre stava facendo lavori di saldatura i pompieri di schio hanno messo in sicurezza i locali ma il medico del suo è ma solo constatato il decesso dell'uomo 74 anni è rimasto carbonizzato le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento ricordiamo il nostro tg linea aperta con le segnalazioni che potete mandare la nostra redazione problemi che vivete ogni giorno davanti a casa vostra scriveteci a vicenza chiocciola rete veneta punto it whatsapp sms 3 4 5 8 5 5 9 6 6 4 salviamo palazzo tiene noi di rete veneta torniamo a chiedere al governo di mantenere la promessa fatta acquisendolo al patrimonio dello stato per farne un museo aperto al pubblico palazzo tiene uno scrigno di opere d'arte dei più grandi maestri di tutti i tempi per questo noi direte veneta torniamo a insistere con lo stato perché eserciti il diritto di prelazione acquisti l'antica sede di bpv e ne faccia un museo pubblico così come promesso nel luglio del 2017 quando il governo accolse un ordine del giorno in cui si impegnava ad acquisire questo patrimonio dell'unesco e a metterlo a disposizione della città del palladio allora come oggi il ministro dei beni culturali era dario franceschini a cui noi direte veneta abbiamo recentemente scritto una lettera aperta e a cui anche oggi ci permettiamo di ricordare che palazzo tiene merita di essere riscattato non solo perché il governo lo ha promesso ma anche perché è di interesse nazionale per dimostrarlo abbiamo già citato le opere di maestri eterni come il tintoretto e jacopo bassano che illuminano le sale di palazzo tiene oggi parleremo di bartolomeo montagna presente nel museo vicentino con due opere una di queste è un frammento di pala d'altare con madonna e bambino personalità eclettica particolarmente attento agli sviluppi della tecnica pittorica bartolomeo montagna è un artista vicentino la cui portata storica però non si può ridurre al solo veneto allievo del mantegna di antonello da messina e del bellini le sue opere sono esposte in tutto il mondo da cambridge ad oxford da liverpool fino al british museum e alla national gallery di londra e ancora a baltimora al metropolitan museum di new york a filadelfia e persino al museo nazionale di arte occidentale di tokyo con altri artisti planetari come rubens vasari van dieck monet renoir e con altri maestri veneti come jacopo tintoretto giambattista e giandomenico tiepolo presente anche quest'ultimo a palazzo tiene per restare in italia le opere di bartolomeo montagna sono ospitate nella pinacoteca vaticana e nella pinacoteca di brera gabriele d'annunzio nel dedicare alcuni versi alla città di vicenza nel 1926 scrisse bartolomeo montagna il viril germe d'andrea mantegna fece vitale la romana virtù spazia e sale per le linee tue semplici e ferme ora il vate non era certo tipo da scomodarsi a dedicare versi a un madonnaro da villaggio dunque cosa aspetta lo stato a riconoscere l'interesse nazionale di palazzo tiene ed acquisirlo servono altri esempi altre opere d'artisti di valore mondiale esposte nell'antica sede di bpv beh non ci sono problemi ne parleremo la prossima puntata sì perché per noi la questione non finisce qui ma continua nei giorni scorsi abbiamo dato voce a chi vive a ponte san paolo a vicenza segnalando una strettoia che blocca il traffico ebbene abbiamo fatto incontrare un residente del centro storico col sindaco per ottenere una risposta e risolvere il problema la vostra voce è la nostra voce con questo obiettivo noi di rete veneta abbiamo sempre raccolto le vostre segnalazioni e le abbiamo portate alle autorità competenti anche oggi fedeli alla nostra promessa portiamo la voce dei residenti di ponte san paolo che ci avevano scritto segnalando che la situazione a vicenza in centro storico è ormai da molto insostenibile sia per i gas di scarico che per la pavimentazione distrutta dai mezzi pesanti che circolano si è formato un imbuto a ponte san paolo per le vetture e i mezzi pesanti che arrivano sia da contra santi apostoli che da contra paolo gli oi il tutto veniva documentato da questi video che mostravano come effettivamente basti un'auto in sosta selvaggia cosa che nella zona accade spesso e gli autobus non riescono a passare bloccando il traffico oggi dunque portiamo questa segnalazione al sindaco insieme a un cittadino che chiede la soluzione all'annoso problema è chiaro che bisogna parcheggiare bene quindi se si parcheggia in quella maniera sul ponte evidentemente si crea un ostacolo noi stiamo rivedendo la mobilità interna dei mezzi di trasporto pubblico locale attraverso un progetto che abbiamo già annunciato nel documento del sindaco sul piano degli interventi che prevede per il centro storico l'allontanamento dei mezzi pesanti fuori dalle mura e all'interno della mura solo mezzi di piccole dimensioni che stiamo già cominciando ad acquistare con finanziamenti statali e quindi questo permetterà anche un alleggerimento delle strade del centro che non sopportano più quei mezzi così invasivi insomma. E' soddisfatto della risposta del sindaco? Chiaramente adesso abbiamo avuto una risposta esauriente Una risposta esauriente a cui aspettiamo di vedere che seguano i fatti Certo il progetto c'è ma deve prendere vita Quindi ringraziamo il sindaco per quanto ci riguarda La questione non finisce qui ma continua Ci sono novità per le scuole materne statali di 90 Vicentina L'amministrazione ha ottenuto 2 milioni di fondi ministeriali per rimettere a posto gli edifici Oltre 2 milioni di euro spalmati in due anni per rinnovare le materne statali di 90 Vicentina Una riguarda ovviamente la scuola materna 2 giugno che è questa qua alle mie spalle Che avrà un intervento, subirà un intervento importante di circa 960 mila euro Più altri 100 mila verranno praticamente messi sul piatto dal comune di 90 Vicentina con il conto energia Per un totale di oltre un milione di euro Boccata di ossigeno che deriva per la gran parte da un finanziamento ottenuto dal ministero dell'istruzione Volto al miglioramento delle strutture scolastiche L'altro investimento ottenuto con la medesima modalità Servirà alla scuola Papa Giovanni XXIII a Saline dove verrà costruito un nuovo edificio La costruzione di un nuovo edificio che abbiamo pensato di posizionare a lato del palazzetto di Saline Dove c'è già una scuola elementare, la di Amici Se quindi verrà praticamente potenziato un polo scolastico Che avrà ovviamente una caratteristica di continuità con già delle strutture preesistenti Il futuro e la progettualità scolastica di 90 Vicentina non si ferma alle strutture Ma investe sui contenuti e punta a collaborazioni ambiziose Abbiamo preso in considerazione una partnership con una start-up dell'università Un'altra proposta pedagogico-didattica che fa capo invece ad altre realtà E ne avremo una terza, quindi ci stiamo muovendo in più direzioni Dopodiché il collegio dovrà fare sintesi di tutto questo e capire Era l'ultima notizia per questa edizione di TG Vicenza Che torna domani alla stessa ora Grazie per averci seguito e buona serata con Rete Veneta Benvenuti al meteo La perturbazione si allontana dal nostro territorio Lunedì 16 novembre però avremo ancora un tempo instabile Vediamo la situazione nel dettaglio Sul Veneto fino a parte della mattinata Cielo in prevalenza molto nuvoloso Con probabilità medio-alta di precipitazioni diffuse Nevose intorno ai 1700-1900 metri sulle Dolomiti In seguito rapido miglioramento Con diradamento ed esaurimento delle precipitazioni Accompagnato anche da schiarite via via più ampie A partire da ovest Temperature minime tra 1 e 8 gradi Massime fino ai 15 gradi all'incirca Con la grafica vediamo ora come sarà la situazione a Vicenza In città ma anche in provincia La giornata di lunedì vedrà ancora un tempo incerto Soprattutto in mattinata Quando avremo piogge sparse e intermittenti Andrà meglio invece con il passare delle ore Con tempo più stabile Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto Arrivederci Nuovo Renault Captur Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid Scegli tu quando guidare elettrico Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti Di Vicenza e Tiene Scegli tu quando guidare elettrico Scegli tu quando guidare elettrico Scegli tu quando guidare elettrico